Allora manca pochissimo alla prima puntata di Insieme a Canestro, il nuovo format che Rossini TV in collaborazione con il consorzio Pesaro Basket ha ideato e porterà avanti per tutto il campionato della Victoria Libertas. Siamo molto emozionati perché anche questa sera avremo degli ospiti eccezionali con cui inaugurare e iniziare questa bellissima avventura con la prima squadra di Pesaro, la Victoria Libertas appunto. Analizzeremo insieme agli ospiti la partita vittoriosa di domenica, i due punti che la squadra ha ottenuto a Roma e naturalmente andremo anche a commentare la prossima prestazione che vedrà la Victoria Libertas impegnata domenica 1 novembre alle Euro 12 contro Cremona.